Dopo due settimane riapre il bar dell'ospedale, dopo il cambio di gestione che ha visto la ditta di Luigi Sbraccia lasciare il locale per scadenza gara. Da oggi è la ditta CRC di Alati SRL di Sora a gestire il bar fino al 2017 con un canone di circa 270.000 euro annui. Il passaggio di consegne fra le due imprese non è stato in dolore. La ditta Sbraccia ha depositato un ricorso al Tribunale di Teramo per il sequestro giudiziale dei beni mobili e delle attrezzature del bar, ritenendoli di sua proprietà. Il giudice non ha concesso il sequestro provvisorio e la prima udienza si terrà il 9 luglio. Adesso diciamo oggi è il battesimo, stiamo portando avanti qualche idea nostra, vediamo un attimo di aggiustarla nei prossimi giorni, vediamo i flussi e tutto come va. Ci saranno quindi, da quello che mi sta dicendo, introdurrete delle novità rispetto alla precedente gestione? Sicuramente, adesso ci rendiamo conto delle esigenze dell'utenza e sicuramente è chiaro che noi andremo verso l'utenza, non è l'utenza di venire verso di noi. Il personale qui nella struttura del Mazzini è stato confermato come prima? Sì, sono stati confermati quasi tutti. Il primo giugno è arrivata la ditta di Sora, che ha dovuto svolgere una serie di adempimenti burocratici, dalla riassunzione dei 15 dipendenti della precedente impresa alla presentazione di alcuni certificati. Da stamattina il bar è tornato in funzione.